Oggi giocherò a Brawl Stars, non sono tanto bravo quindi vi farò vedere solo la schermata che non si vede molto bene e giochiamo, vi racconterò la partita in pratica e iniziamo Ok, non disturbarmi, non disturbarmi ti prego Sto a giocando in sopravvivenza in due Sì, c'è il mio papà che... Vai già, ha ripasso il rappendi Oh! Regà, no, 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 no Sono morto Eh, vabbè, eh, vabbè, eh, vabbè Mi hai aperto, eh? Eh, regà, eh, 5, 4 Non ho, io ti odio, Eva, io ti odio Questa scelta è molto forte Eh, ho capito Io non sto facendo assolutamente niente Ok Faccio una fila Ah, Willy, Willy Ah, Neri, Neri, abbiamo vinto Più 9 con Bea, ragazzi Quindi 51 è livello 9 Ma guarda, più va bene 78 e 88 monete Riusciamo Ciao mamma Quanto mi odi da 1 a 10? 12 12 No, papà mi odia L'itrativo Ah, non è vero Sparchettiamo Ovviamente troviamo uno schifo, no? È giusto che È giusto, no? Che troviamo uno schifo Andiamo a migliorare Non so chi Ha Bull Che non uso mai Chissà il perché Chissà, chissà Ehm Alle Ma, 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 ma 15 Salva Ok 2 ore e 41 minuti Ora possiamo Posso giocare a Brawl Stars A ricominciare a giocare Adesso usiamo Ciao mamma Oggi Adesso Oggi Usiamo Adesso Usiamo Perché c'ho un'ita 9,60 di danno Ma io Usiamo il primo Giochiamo Ho sbagliato Perché ho fatto in due Devo fare singolo Vabbè Sono passati i primi tre minuti E Moonstone con una nita Ciao mamma Ciao mamma E vinciamo E prendiamo subito una cassa Ammazziamo questo Bull Bull Ho rischiato la vita Ma ce l'ho fatta Occhio Adesso Ti vengo ad aiutare Amica mia Brutto Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare Cosa vuoi fare E l'ammazza così E l'ammazza così 5 è Power Up Subito Non mi definisco un pro Perché non sono un pro Occhio E vabbè Ah è arrivata La mia nita Very very nice Oddio 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 Per dire concentrazione Cosa tu hai No non è vero E no Sì ai campionati Nel mondo Più o meno Parlano Quindi Oh sì Cosa vuoi avere Che gioco Ok brava L'hai presa te Io ho visto Sceglito quella nita Lì Oddio 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 Ha fatto fuori Ha fatto fuori Ha fatto fuori Io faccio fuori Sei così Sei così Sei così Andiamo a vincere Più 9 ancora Lo so Non verrà un bel video Ma più 9 ancora Dai Siamo 388 Rodotool 400 coppe Mi mancano solo 12 coppe Per arrivare a Quindi basta una win E Un'altra win E anche la seconda posizione Va bene Andiamo a giocare Va dai Che aspetta Devo portare Il primo Non so che grado Va dai E qua perdiamo E qua Perdiamo C'è C'è Bull Che gioca con me C'è Bull Oh le parole Pa Non so come si Si censura Quindi Non Non dire Non dire parolacce Grazie Allora Giz Grazie Sì ma lui Grazie Si chiama in realtà Giz Ok Rega Io voglio andare Voglio uccidere qualcuno Che sta facendo tutto Lui Ecco chi ammazza Ecco chi Cioè Lei mi ha ammazzato Anch'io Guardi Come Meno una coppa L'avevo detto Che la perdevamo Questa L'avevano detto Va bene Cazzo No No Mi ha ammazzato Ma What the fuck Scusate 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 raga Dobbiamo cambiare Location Location Sono sul tavolo Bravo Ok Così Bravo Bravo Brava così Brava così Brava così Brava Brava Dai Occhio Accolte Occhio Rega Occhio No Vabbè Ma Vabbè Ma proprio Vicino a noi Ma che no Ma non è vero Poi ricerca me Ma ricerca me Ma perché Va bene Dai Ti aiuto nel mente Ti aiuto Ti sto aiutando Fortunati quelli che non ce l'hanno Fate ammazzare Brutto Struzzo Brutto Struzzo Io sono messo male Io sono messo male No Rega Non sono messo per niente male E andiamo a fare la win Andiamo Più nove Grado nove Oddio Devo portarlo Devo portarla al dieci Devo portare Il primo al dieci Più nove intanto Quattro coppe Quelle quattro coppe Intanto apriamo subito questa cassa Troviamo Non schifo Come sempre ovviamente No perché Non schifo Troviamo Non schifo E adesso rega Mi metto gli auricolari Che è meglio Non so come si taglia Non posso tagliare Quindi Vi faccio vedere tutto Quello che faccio Yeah Qua non c'è il tempo Per quanto può durare Ok lo sento Andiamo a fare la win Andiamo a fare la win Con il primo Andiamo Scusate rega Ma Devo abbassare Non ho niente Non ho niente Non ho niente Ok Rega Oddio Ok Arrivo Bel colto Mio Ecco Ah Non me l'ero neanche Corto Stiamo giocando Con colto Ho fatti Entra Ok Allora No Siamo subito 6 6.700 Ok No Bel colto Vieni qua Bel colto Ok Adesso Raggiungiamo Oddio No No Sono da solo Rega Occhio E mi prendono Quasi quasi mi prendono Rega sono uno scemo Uh Me l'ho schivato Non è mai vero Però Tanto lui è immune Occhio però Amaya Ha questo colto Oddio 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 Eh vabbè Ma la gui non me la fanno mai fare Ah no 99 No Facciamo un singolo Devo far singolo Facciamo un singolo Singolo con il primo Dai Dai Singolo con il primo Andiamo Dai 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 Subito con la bella cassa nostra Vero Vero Adesso si ricaricano Ok Possiamo già forse avere tre power up Cioè due Possiamo di già Io direi di sì Sette mille e cento Oddio Ok Occhio Ok Ok niente Rega Forse Sarebbe stato bello Eh Vabbè E Shelly arriva Vabbè Rega Uh Siamo già in quattro Ma già in quattro Ragazzi Ok Contro quella Penny Tentando bravo Robot Inseguila Che questa Penny deve morire Muori No No E vabbè Rega Comunque P8 400 coppe Sul mio telefono Perché sul mio tablet Ce ne ho molti di più E usciamo Poi faccio La ripresa Col mio tablet Le ventici Oddio Manca Poco Miglioriamo Nita Che mi serve Tanto a mille Mille di danno Mi serve Vabbè Rega Io Potrei Chiudere qua Il video Ciao Ciao